Un ringraziamento per avermi dato la possibilità di intervenire qua oggi. Effettivamente l'ipotesi di fare di questa cittadella dell'innovazione è importantissima. Brescia credo che abbia un'opportunità incredibile, è un territorio che ha la possibilità di esprimere l'opportunità di coniugare una grande passata industriale con l'esigenza di cambiare metodo. Cambiare perché ovviamente quando si parla di sviluppo e sostenibilità, il centro sviluppo e sostenibilità voluto dalla provincia di Brescia, dal comune di Brescia, dalle altre istituzioni che ne partecipano, ha un concetto di fondo. Sviluppo e sostenibilità vuol dire essere in grado di governare i processi attraverso la trasformazione, non eliminare i processi in virtù di un ipotetico sviluppo soltanto ecologico, ma governarli per renderli possibili all'interno di un ecosistema che non è soltanto quello delle idee, ma anche quello che ci circonda tutti quanti. Il fatto di poter inserire a Brescia questo elemento è fondamentale. Noi abbiamo una provincia che è vastissima, che è fortemente industrializzata, arriva da un passato di grande capacità industriale e anche innovazione. Oggi si trova di fronte alla sfida di volersi ulteriormente innovare e per poterlo fare deve ricorrere a tutte le incontaminazioni politiche. Olivetti aveva nelle proprie aziende non soltanto gli ingegneri ma anche gli umanisti, perché li teneva un elemento di innovazione e di stimolo. Il fatto che ci si possa contaminare, come prima dicevano i ragazzi, dico ragazzi perché sono ragazzi di una volta, quindi i ragazzi è fondamentale. Bisogna avere la capacità di innovarsi, di contaminarsi, di mettere a fattore comune anche così l'immaginazione che l'arte ci può dare, ma dall'altra parte dobbiamo avere la capacità ingegneristica di poter a un certo punto prevedere come queste cose possono essere messe a terra. Ecco, la Brescianità secondo me ha questa caratteristica e questa capacità e quindi all'interno di questo io credo che ci giocheremo una grande sfida. Citavi prima Matrix, se non sorriderai tanto e avrai voglia di andare a vederti una serie televisiva un po' più vecchia, Spazio 1999, non l'ha mai vista, tu lo sono sicuro, io me la sto riguardando in questi giorni, vedrai delle cose molto particolari e interessanti di come uno si immaginava un futuro molto prossimo che non è arrivato con quella prossimità ma sul quale oggi ci stiamo affacciando. Credo che la possibilità di poter mettere a terra quello che è l'immaginazione con un processo innovativo continuo, di sviluppo, di ingegnerizzazione appunto dei processi sarà la sfida del futuro che ci viderà verso qualcosa che oggi ancora non immaginiamo completamente. L'immaginazione va avanti, quello che ne segue è la volontà di tutti con le competenze di ciascuno e questo credo che sarà una grande sfida per tutti. Grazie.